Da qualche anno a Roma si sono moltiplicati cittadini che autonomamente o in forma associata puliscono Roma, le sue strade e i suoi parchi. Questo perché l'amministrazione è obiettivamente un po' in sofferenza. La situazione dei rifiuti è a tutti nota ma si sta normalizzando. In queste ultime ore anche un noto partito, il PD, quello che è responsabile del malgoverno degli ultimi vent'anni a Roma ha deciso finalmente di venire a pulire, chiaramente per il noto principio secondo cui chi sporca pulisce. Un po' tardivo, comunque lo aspettiamo e gli diamo i migliori auguri di benvenuto. Ci auguriamo che non sia uno sterile spot elettorale. Per far questo vi aspettiamo non solo questa domenica ma anche tutte le altre a seguire quantomeno per i prossimi vent'anni.